Dall'elettronica al funky soul, tutto rivisto, roba degli anni 70, rivista in chiave moderna. Cosa sta facendo lui tecnicamente? Lui sta facendo in chiave tecnica un passaggio fra un disco e l'altro. Ma come fa? Cioè preascolta? Mette a tempo con la cuffia il disco che viene dopo, con il disco che stanno ascoltando i ragazzi. Dopo l'epoca dei vari Wulstock, poi i raduni afro, concerti rock, che adesso diciamo che è il momento di questi festival dell'House. Tu sei di La Spezia, ma in Liguria non lavori tanto. No, lavoro parecchio in Toscana, in Veneto, a Roma.